la rosa della vendetta è la nuova sop turca in onda su canale 5 a quanto pare le cose non vanno benissimo gli ascolti non stanno dimostrando i risultati sperati il successo per la sop turca in onda su canale 5 è irrefrenabile tutto è partito da daydreamer la serie che ha permesso a ken yaman di poter conquistare il pubblico italiano oggi l'attore è a tutti gli effetti nei vari cast italiani la dimostrazione lampante è rappresentata da viola come il mare dopo quella serie si sono susseguite diverse sop che hanno completamente incollato i telespettatori al piccolo schermo terra amara ha raggiunto numeri clamorosi ma anche endless love sta facendo il suo dovere il riscontro è ottimo e ogni puntata sta diventando imperdibile cosa succede invece alla sop la rosa della vendetta la rosa della vendetta gli ascolti non promettono bene visto l'ottimo riscontro avuto fino ad oggi mediaset non molla e continua a proporre su canale 5 tante nuove sop turche una è arrivata da pochissimo stiamo parlando della rosa della vendetta al centro del racconto due protagonisti gul cemal e gul endam questi ultimi sono entrambi scossi da un evento che li ha segnati profondamente ovvero l'abbandono della madre un evento che ha completamente stravolto la loro vita causandogli non poche problematiche l'attore protagonista è interpretato da demir uno dei punti cardine di terra amara la rosa della vendetta è andata in onda ieri sera ma gli ascolti sono notevolmente calati cosa sta succedendo dopo un'analisi sui vari commenti dei fan sono spuntati alcuni punti interrogativi rilevanti che potrebbero segnare il futuro di questa sop probabilmente il pubblico è abituato a seguire e amare le serie turche per un unico e solo obiettivo ovvero l'evoluzione delle storie d'amore i telespettatori sono amanti dei drammi sentimentali e dei colpi di scena che sconvolgono le varie dinamiche al momento nella sop prevale la ricerca costante del protagonista nel voler a tutti i costi approfondire le ricerche sul suo passato l'abbandono della madre ha segnato fortemente la sua vita ma questo aspetto prenderà il sopravvento sulle vicende sentimentali della sop la rosa della vendetta va in onda da poco tempo per questo motivo è possibile che più avanti le cose cambieranno riuscirà questa serie a conquistare i numeri di quelle precedenti gli intrighi e le verità da svelare di certo non mancano come si evince già dai primi episodi per scoprire se i numeri miglioreranno non vi resta che continuare a seguire le puntate colpi di scena e grandi novità potrebbero migliorare improvvisamente le cose soprattutto se questi sono dedicati alla coppia protagonista del racconto